Siamo a Piazza Matteotti, qui a Siena con Luca Venturi, l'ideatore dei Siena Awards. Luca, ha dieci anni dal progetto, come ricordi, cosa ricordi degli esordi? Ricordo la passione iniziale, che è la stessa di oggi. In qualche modo sono i valori iniziali quelli che ci hanno portato a raggiungere questi risultati. Valori che non sono cambiati e valori che non vogliamo che cambino, perché penso si rappresentano veramente l'essenza del progetto. In questi dieci anni di progetti e di successi c'è un'annata che è particolarmente rimasta nel cuore? Penso sia quella di quest'anno. Non c'è ancora rimasta nel cuore, ma in qualche modo lo rimarrà, perché è tutta improntata sulla nostra storia, sulla volontà di far capire che dietro a questo modo, alle esposizioni e a tutto quello che i visitatori potranno vedere in questi due mesi, c'è una grossa passione, c'è uno grosso spirito di gruppo. E c'è uno spirito di gruppo che non è solo racchiuso alla città, ma che accomuna molti dei partecipanti che tutti gli anni ci raggiungono e molte delle istituzioni, anche internazionali, che supportano il cuore. Semi dell'entusiasmo, il titolo scelto per questa edizione. Che significato racchiudono queste parole? Queste parole racchiudono il vero significato del Siena Wars, che non nasce da un gruppo, ma nasce da una corale partecipazione che anno dopo anno è diventata una vera e propria foresta, dei semi che sono germogliati semplicemente perché il terreno di Siena è un terreno estremamente fertile. Grazie mille. Grazie a tutti.